La Regione Liguria ha sempre avuto una grande sensibilità nei confronti del problema dell'ipotermia perioperatoria. Il grande passo in avanti è stato questo, cioè la Regione, tramite la Centrale Regionale Acquisti, ha licenziato in tempi molto rapidi, poco tempo fa, una gara che permette l'acquisizione da parte delle aziende sanitarie, degli ospedali, di tutti gli strumenti e i device, sia per il riscaldamento dei liquidi intraoperatori, sia per quanto riguarda il riscaldamento del paziente in tutte le sue forme. E questo rappresenta sicuramente un elemento base da cui partire per poter quindi aggiungere sensibilità nei confronti degli anestesisti e rianimatori. Dicevo, la Regione Liguria da tempo ha studiato il problema e lo ha affrontato. Oggi però con questa unione, cioè con la sinergia tra la Regione e il mondo, la cultura scientifica dell'anestesista, secondo me si chiude il cerchio e quindi ora è semplicemente necessario che le varie aziende, i vari direttori, i vari anestesisti facciano un'opera di pressing e possono quindi acquisire ciò che serve per garantire un parametro che, se vogliamo, nella sua banalità però è straordinariamente importante per garantire il miglior outcome in tutti i setting chirurgici.